L'alfabetizzazione dei professionisti della finanza è un passaggio molto importante per consentire agli investitori finali di fare delle scelte oculate e consapevoli. L'alfabetizzazione è forse un termine un pochino forte, soprattutto quando si parla del convegno dell'Efpa, dove abbiamo una comunità e una platea di persone che sono estremamente preparate, quindi più che alfabetizzazione parlerai di aggiornamento delle conoscenze che hanno queste persone, perché ovviamente lavorano in un contesto di mercato che cambia molto dal punto di vista dei cicli che dobbiamo affrontare sui mercati, ma anche dal punto di vista regolamentare. Quindi l'aggiornamento è qualche cosa di estremamente importante per essere sempre in grado di poter dare il miglior contributo e il miglior supporto alla clientela finale nelle sue scelte di investimento. Per quanto riguarda Ben Peppari Ben Investment Partner, sono due anni ormai che abbiamo scelto di accompagnare in modo particolare quei promotori finanziari che sono certifichi a Tfpa, dandogli l'opportunità di raccogliere tutto l'anno quelle ore di formazione che gli consentono di mantenere questa qualifica. Lo facciamo in collaborazione con la nostra Investment Academy, che nasce nel 2010, in Ben Peppari Ben Investment Partner, e che è un po' la nostra fabbrica di contenuti formativi che poi vengono diffusi in tutto il mondo e in Italia in particolare. Questo è un percorso che ci ha consentito, ripeto, negli ultimi due anni di creare una comunità dei partecipanti che ha superato i mille e con cui intratteniamo in modo regolare degli scambi informativi e formativi che consente appunto di consolidare quella che vogliamo essere una relazione con loro di lungo termine e di fiducia. Al prossimo episodio Grazie a tutti.